L'andamento del mercato alla costringere a organizzare l'azienda effettuando tagli di personale? Sta cercando la soluzione che le consenta di applicare questa scelta nella maniera meno traumatica possibile per i lavoratori coinvolti? Noi di Runstad offriamo alle aziende il servizio di outplacement, ancora poco noto in Italia, ma che ha avuto negli ultimi anni un'importante accelerazione. Questa soluzione le consente di supportare i lavoratori in esubero aiutandole a ricollocarsi sul mercato del lavoro. Uno strumento efficace per gestire con responsabilità sociale esigenze così delicate e riuscire a riadattare la struttura organizzativa riducendo tensioni e conflitti. L'approccio di Runstad comprende una serie di servizi pensati per guidare i lavoratori in un percorso di autovalutazione, riqualificazione e formazione, anche attraverso consulenze ad hoc compresa quella psicologica. Ad avviare la divisione outplacement di Runstad la dottoressa Gabriella Lusvarghi, che negli anni 90 ha importato questo servizio dagli Stati Uniti, adattandolo alle normative del mercato italiano. Runstad, accreditata dal Ministero del Lavoro, ha organizzato l'attività per settori merceologici e sviluppato una capillare presenza sul territorio in grado di coinvolgere un numero sempre più ampio di aziende. I lavoratori vengono affidati a consulenti esperti che analizzano il percorso professionale, ne individuano i punti di forza, gestiscono le debolezze e attivano quel network di relazioni necessario ad una rapida ricollocazione. La divisione outplacement è composta da un team di consulenti con esperienza pluriannale e un'ampia conoscenza delle dinamiche di transizione di carriera e dei linguaggi aziendali. Runstad offre inoltre esperienze nell'avvio di attività microimprenditoriali con una consulenza a 360 gradi che va dall'analisi delle opportunità di mercato fino al reperimento delle risorse economiche. Fanno da corollario alla metodologia un'elevata penetrazione territoriale e una copertura totale con oltre 180 filiali in Italia e una presenza internazionale in più di 40 paesi. Con la nascita di outplacement.net sono state avviate forme di ricollocazione innovative in via sperimentale che offrono corsi di outplacement 2.0 per gestire online la comunicazione personale e sviluppare il proprio network in rete. E allora perché non rendere le transizioni di carriera meno traumatiche offrendo ai lavoratori un supporto concreto e dimostrando la responsabilità sociale della sua azienda.